Pesaro, tutta da scoprire, guida curiosa della città. E questo è il titolo del libro composto da testi e illustrazioni dedicato a bambini e adulti realizzato da Margherita Mazzoli con la casa editrice Metauro per proporre all'interno del panorama delle iniziative di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, una simpatica guida interattiva alla scoperta della città. Questo progetto è nato con lo scopo di far scoprire la città di Pesaro anche ai più piccoli e alle famiglie. Pesaro, tutta da scoprire, non è soltanto un libro per bambini ma è proprio un libro per famiglie che possono accompagnare i loro figli grazie alla lettura del libro per la città. Il percorso è strutturato in due itinerari che il lettore può comporre a propria scelta, a seconda delle proprie scelte ogni lettore può comporre il proprio percorso itinerario personale. Ho scoperto tante curiosità della città di Pesaro che non sapevo e poi mi sono divertita moltissimo ad illustrare i piccoli angoli nascosti, i piccoli dettagli dei monumenti, dei palazzi e dei punti di interesse della mia città. A raccontarci del libro è anche la grafica della casa editrice Metauro che ne ha curato il design e le impaginazioni immergendosi così in quel mondo fatto di parole ma soprattutto forme e colori di una città pesarese disegnata a mano. Il mio piacere è stato quello di dare forma e di costruire e di mettere insieme i testi realizzati dall'autrice e le sue illustrazioni insieme a quelle del ragazzo Damian Giroux, bellissime illustrazioni dedicate a luoghi come Fiorenzuola, Gradara, Rocca Costanza o la stessa piazza di Pesaro. Le illustrazioni sono molto particolari perché lontane da tutto quello che è il mondo digitale di oggi abbiamo voluto riscoprire la vera illustrazione a mano, quindi realizzata col disegno, la matita, poi i colori e gli acquarelli. Quindi un vero rapporto di vicinanza col foglio, coi colori, con le tempere. Ricordo quando Margherita mi mandava le foto dei suoi disegni con le mani tutte impiastricciate di colore è quello che vorremmo trasmettere ai bambini, anche il piacere del colore, dell'illustrazione pura, semplice e perché no anche ai genitori perché dei disegni come quelli di Margherita piacciono sicuramente anche ai più grandi. Mi hanno affascinato quelli degli interni del Teatro Rossini dove una mamma accompagna la bimba a vedere le opere indicandole il palcoscenico del teatro, bellissimo. E anche un disegno di un luogo forse più sconosciuto della città, l'Osservatorio Valerio dove il re Vittorio Emanuele II guarda con un cannocchiale le stelle. È bellissimo, personalmente trovo sia uno dei miei preferiti.